4 milioni di italiani sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare a Natale e a Capodanno, un numero praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno. Questo quanto emerge da una stima della Col di Retti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto degli indigenti relativo al periodo 1994-2020. Il 21% rappresentato da bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi il 9% da anziani sopra i 65 anni e il 3% su un'istenza fissa di mora. Fra i nuovi poveri ci sono poi coloro che hanno perso il lavoro a causa della pandemia. A ottobre il credito bancario alle imprese italiane ha registrato un aumento annuo del 7,4% spinto dai prestiti emergenziali. In molti settori questo balzo ha accresciuto troppo il peso del debito misurato in anni di cash flow generato dalle imprese. Questo è il monito lanciato dal Centro Studi di Confindustria, secondo cui nel 2021 serviranno 5,4 anni di cash flow nel manifatturiero per ripagare il debito e quasi 4 anni nel settore servizi. Per il CSC la mancanza di interventi metterebbe a rischio il flusso di nuovi investimenti, si rende quindi necessario consentire un allungamento del periodo di rimborso dei debiti di emergenza contratti nel 2020. Secondo un sondaggio lanciato dalla rivista specializzata Orizzonte Scuola, gli istituti non dovrebbero riaprire il 7 gennaio. L'indagine ha coinvolto 15.433 utenti che sono intervenuti per esprimere la propria opinione riguardo a un possibile ritorno in aula. Alla domanda se sussistono le condizioni per il ritorno in classe, il 91,42% dei partecipanti, ovvero 14.109 utenti, hanno risposto di no, ritenendo che attualmente non sia ancora sicuro. Solo il 7,82% si è detto favorevole alla riapertura delle scuole, mentre 117 partecipanti si sono astenuti. Tra gennaio e novembre 2020 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'INAIL sono state 492.150, in calo del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Di queste, 1.151 hanno avuto esito mortale, più 15,4%. A comunicare questi dati è l'INAIL, che ha sottolineato che nello stesso periodo risultano in diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che si sono attestate a 40.926, meno 27,6%. Secondo l'INAIL, i numeri di quest'anno sono fortemente influenzati dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di covid-19, così come dal lockdown.